ciao lettrici e lettori bentornati su miss fiction books io sono tiffany e buon feminist friday a tutte e tutti voi oggi ripercorriamo insieme la vita di una delle scrittrici che mi stanno più a cuore per questa seconda puntata di antologica infatti è proprio la mia scrittrice italiana preferita e quindi non poteva mancare in questa programmazione e infatti oggi parliamo di el samorante mi scuso anche perché oggi non siamo riprese in video ma sarà una puntata registrata a voce ma ho avuto alcuni problemi tecnici e quindi questo era l'unico modo per portarvi la puntata ma direi di cominciare come per la smith penso sia necessario partire da alcuni aspetti biografici per entrare dentro la sua opera e su questi purtroppo mi soffermerò un po' el samorante nasce a roma nel quartiere testaccio nel 1912 la sua una famiglia di grandissime contraddizioni la mamma irma una maestra di origine ebraiche rimane sposata con augusto morante che riconosce anche tutti e cinque i figli che che irma in realtà ha da una relazione extracognugale con l'impiegato postale francesco lomonaco il finto padre di elsa chiese alla moglie irma di non lasciarlo di non chiedere l'annullamento del matrimonio per ottenere questo ha consentì che lei avesse figli ben cinque con lomonaco un uomo che viene descritto come bello simpatico e molto superficiale che andava a trovarli circa una volta al mese finché nel 1943 il vero padre dell'amorante morì suicida sparandosi un colpo alla testa una storia tremenda sotto moltissimi punti di vista una realtà familiare che ha molto di disfunzionale anche per il disprezzo con cui irma presa a trattare il marito con cui convisse per tutta la vita senza mai liberarsene e sappiamo che questo background familiare e i suoi numerosi aspetti drammatici critici la religione ebraica della madre e la sfuggevolezza della figura paterna hanno inciso notevolmente anche sull'opera di elsa morante diventando temi ricorrenti nell'opera della scrittrice come vedremo poi in seguito elsa morante dimostrò fin da giovanissima una notevole attitudine alla scrittura cominciando a comporre poesie fiabe racconti si dice che già recitasse i primi versetti inventati da lei da decantare per tutta la famiglia già a due anni a 18 la morante decide di andare a vivere da sola lasciando la famiglia con cui ha rapporti sempre più tesi dal 1933 fino all'inizio della guerra alcuni dei suoi racconti vengono pubblicati su giornali riviste anche attraverso l'uso di pseudonimi maschili che le facilitavano la pubblicazione prova a iscriversi a lettere ma le difficoltà economiche la costringono ad abbandonare e anche per questo noi le vogliamo bene perché ci fa sentire meno sole ma continua a scrivere a pubblicare raccolte di racconti e racconti dedicate ai ragazzi soprattutto negli anni 30 nel 1936 conosce anche alberto e moravia del quale si innamora e che sposa qualche anno dopo diventando una coppia di riferimento nel panorama culturale italiano collaborando spesso con pasolini bertolucci saba bassani eccetera eccetera una coppia che alternerà una coppia che alternerà momenti di grande intesa a crisi profondissime durante la guerra si rifugiano in provincia di latina e da questa esperienza nasceranno la ciocciara di moravia e il primo romanzo vero e proprio della morante menzogna e sortilegio che viene pubblicato nel 1948 per enaudi grazie alle insistenze di natalia ginsburg elisa è lì un narrante che ci racconta la storia della sua famiglia dove i protagonisti principali sono tre anna francesco ed edoardo anna figlia di un nobile decaduta innamorata di edoardo un ricco cugino con il quale ha messo in piedi una relazione morbosa fatta di maltrattamenti e capricci da parte di lui francesco invece amico di edoardo si innamora di anna perdutamente e comincia a maltrattare rosaria la prostituta con cui aveva una relazione e che lo ama teneramente edoardo scompare nel nulla e anna finisce per sposare francesco dal quale ha una figlia proprio elisa che verrà accolta da rosaria dopo la morte dei suoi genitori ed è proprio lei elisa a narrarci la storia giunta a termine l'ingarbugliata vicenda sentimentale da cui lei stessa è nata la ragazza racconta i vent'anni di guazzabuglio amore bugie e follie che l'hanno messa al mondo il romanzo familiare di elisa la nostra narratrice è un viaggio fra le anime morte la narrazione di generazioni di personaggi in preda passione istinti nelluttabili persone che feriscono chi le ama e impazziscono per chi non le vuole in un gioco masochista e quanto mai realistico di disprezzo per se stesso e verso gli altri in un sud caratterizzato da immobilismo sociale e rassegnazione indolente dove è netta la separazione tra ricchi e poveri dove le due classi sociali si incontrano ma non si intrecciano mai ed entrambi i due mondi sono costellati di persone profondamente irrisolte quella di menzogne e sortilegio è una storia ruvida spietata sgraziata nei suoi contenuti mentre l'esatto opposto nelle sue forme infatti già da questo esordio anche se ancora in via di definizione si impongono le caratteristiche più peculiari e riconoscibili dello stile dell'amorante la vanificazione del confine tra prosa e poesia la volontà di sperimentare all'interno della dimensione romanzesca e delle sue modalità espressive le digressioni particolareggiate spesso su dettaglio di episodi apparentemente insignificanti le prospettive familiari domestiche addirittura anguste rinchiuse in stanze corridoi cortile figlie cucine e la sovrabbondanza di elementi fondamentali ai fini della decifrazione simbolica i tanto cari oggetti e tutto il loro simbolismo grazie a menzogne e sortilegio inizia per la morante un periodo di relativa tranquillità economica che le permette di dedicarsi completamente alla scrittura e alla stesura del nuovo romanzo ma anche a tantissime collaborazioni come quella con la rai e la scrittura per il cinema ma è nel 1957 che arriva la vera e propria consacrazione dell'autrice infatti esce l'isola di arturo che vince anche il premio strega e la prima donna a vincerlo è proprio il samorante il romanzo di formazione racconta le avventure di arturo orfano di madre nato e cresciuto nell'isola di procida che passa la sua infanzia adolescenza senza mai entrare in contatto con nessuna donna quando suo padre porterà a casa annunziata una nuova compagna da cui arturo sarà attratto e svilupperà una complessa relazione fatta di gelosie chiarimenti mai avvenuti anche il rapporto con il genitore arriverà a una rottura ritorniamo a parlare degli ultimi proprio come arturo un figlio dimenticato selvatico che sogna su storie mitiche tramite i libri e gli atlanti che usa per immaginare i viaggi che farà un giorno ed espande il proprio orizzonte solo con l'immaginazione perché i suoi confini concidono e finiscono con quelli dell'isola perché la sua unica dimensione è ridotta a quella di un'isola che è interamente sua peraltro arturo ha sviluppato un'idolatria nei confronti del padre che vede raramente perché spesso in viaggio e proprio per questo il ragazzino immagina il padre come un eroe tra i più grandi che abbiano mai messo piede sulla terra un'illusione che non può avere altro se non vita breve il racconto è infuso di una luce mitica che ricorda il sogno e la descrizione del paesaggio di una fiaba contrapposta però alla durezza della realtà della vita di arturo e dei suoi conflitti tra prime pulsioni amorose gelosie fraterne un padre assente omosessualità malcelate segreti inconfessabili il romanzo è la storia di una catena di eventi che spingeranno arturo fuori dal candore dell'infanzia portandolo infine a lasciare l'isola nel 1958 esce la raccolta di poesie alibi e nel 63 la raccolta di racconti che contiene quello forse più famoso di elsa morante cioè lo shawl andaluso questi anni sono costellati da una serie di importanti viaggi dall'america latina agli stati uniti e poi in asia in cina e in india sono anche gli anni dove moravi e la morante si separano anche se non divorzeranno mai e di una serie di relazioni complicate infatti elsa morante entra anche in una fase di depressione di difficoltà emotive che coincide con una profonda crisi creativa dell'autrice fino al 1968 anno che vede la pubblicazione della raccolta di poesie il mondo salvato dai ragazzi chiaramente rivolto ad un pubblico giovane vicino ai movimenti giovanili di quell'anno un vero e proprio inno all'utopia di un mondo governato dalla bellezza e dalla vitalità della vita infantile dopo aver abbozzato un libro che non vedrà mai la luce ovvero senza il conforto della religione elsa morante ne riprende alcuni temi che confluiranno nel suo nuovo lavoro ovvero la storia pubblicato nel 1974 un grande affresco corale dell'italia della guerra e della ricostruzione non con la prospettiva mistificante della storia cioè la storia dei vinti ma attraverso gli occhi di un'umile popolana della borgata romana ida e di suo figlio useppe le loro esistenze sono frutto di violenze e le conseguenze della guerra si ripercuotono in ogni aspetto della loro vita ambientato a roma durante la seconda guerra mondiale negli anni immediatamente successivi la storia offre al lettore la rappresentazione in pieno stile neorealista e non solo dei fatti bellici e dei grandi eventi dell'epoca da un punto di vista basso e umile quello della borgata romana e del popolo offeso sconfitto criticato in maniera caustica da molta parte della critica militante perché considerato troppo populista è invece un grande successo per il pubblico dopo sei mesi le copie vendute dalla morante sono 600 mila un anno dopo l'uscita un milione fu in gran parte attaccata e criticato da un establishment che si sentiva per la prima volta sminuito e ridotto all'ininfluenza dal pubblico dei lettori diventa il libro dell'anno per il pubblico ma viene salutato da una serie incredibile di recensioni e polemiche contandole sono addirittura 354 un'eccezione per l'epoca ad esclusione dei saggi veri e propri ogni critica giornalista ha qualcosa da dire sulla storia spesso negativamente tranne pochi casi come quelli della ginsburg dipintore una manciata d'altri eppure il pubblico lo ama e mentre il pubblico aveva comprato letto e pianto sul destino di duzza ramundo dei suoi figli useppe nino e degli altri personaggi di questa storia ambientata nella seconda guerra mondiale la critica si scagliava contro questo libro per loro immeritevole aveva successo quindi non poteva essere un buon libro all'uterina scrittrice romana non è concesso utilizzare imponemente il registro patetico sentimentale un narratore moderno poteva far ridere o spaventare il proprio lettore ma mai farlo commuovere quello no questo romanzo ritrae un susseguirsi di episodi della vita quotidiana dei tanti personaggi vittime della storia che cercano attraverso dialoghi scarni eppure straordinari di trovare di dare un senso alla loro vita e all'esperienza che condividono gli ebrei i giovani mandati alle armi o in fuga gli sfollati gli umili la lingua utilizzata si rivolge a quelli che l'amorante nel saggio sul beato angelico definisce gli idioti ovvero coloro il cui intelletto è confinato nella dimensione del tempo e nello spazio che vivono emergono tematiche nuovamente legate all'ambito familiare alle sue fratture il legame tra madre e figli le questioni razziali legate alle origini ebraiche ci sono i rastrellamenti di roma tra i vari episodi legati alla tematica razziale e non solo si parla di treni treni che vanno ad auschwitz alla malattia alla salute mentale alle conseguenze dei traumi e delle difficoltà nel gestirli soprattutto se appartieni al fondo della catena sociale ma i secondari sono i luoghi in questo romanzo testaccio pietra alta il ghetto ebraico di rome san lorenzo squarciati dai bombardamenti e brulicanti di umanità che diventano la vera dimensione alla quale si riconduce la vita stessa e questo è il vero capolavoro di elsa morante nonostante la critica abbia sbagliato sonoramente due anni dopo la pubblicazione della storia inizia una lunga e faticosa stesura di araceli l'ultimo romanzo della morante araceli esce nel 1982 il libro racconta la storia di manuel un uomo omosessuale di 43 anni ossessionato dal ricordo dell'infanzia trascorso in un rapporto strettissimo e quasi morboso con la madre una donna andalusa di nome araceli un rapporto che da esclusivo e speciale diventa totale e imprigionante un vero e proprio viaggio dantesco di un solitario protagonista alla ricerca del suo paradiso perduto la madre andalusa ed è proprio alternando passate presente che viene a galla la storia del protagonista e della madre del loro amore della fine di araceli e dell'ossessione del figlio per la sola persona che lo abbia amato veramente la borghesia con i suoi falsi valori viene smantellata così come tutte le illusioni e le rivoluzioni del 68 la società descritta sia quella degli anni dell'infanzia del protagonista durante il fascismo sia quella della maturità negli anni 70 alle sembianze inquietanti di un quadro futurista o di una perversa immagine circense la malinconia è il sentimento che più di tutti impregna queste pagine dai ricordi al viaggio ai luoghi al personaggio di manuel o manuel in realtà ma io sempre detto manuel un romanzo dal sapore amaro che non si stacca dalle tematiche care all'autrice poco prima della fine della stesura del romanzo cadendo essa morante si procurò una frattura al femore che la costrinse lungamente a letto questo unito alla perdita del caro amico pasolini nonostante i due si fossero allontanati dopo la metà degli anni 70 e alla diagnosi di idrocefalia provocano una depressione inarrestabile uno sconforto nella scrittrice che tenta il suicidio avvelenandosi con il gas nel 1983 ricoverata in ospedale sottoposta a un intervento chirurgico muore di infarto il 25 novembre 1985 una perdita incalcolabile per la letteratura italiana una donna sfaccettata allo stesso tempo estremamente dura ma anche molto fragile una che durante gli anni del fascismo parlava in questi termini di benito mussolini così un uomo mediocre grossolano di eloquenza volgare ma di facile effetto è un perfetto esemplare per i suoi contemporanei presso un popolo onesto sarebbe stato tutt'al più il leader di un partito di modesto seguito un personaggio un po ridicolo per le sue maniere i suoi atteggiamenti le sue manie di grandezza offensivo per il buonsenso della gente e causa del suo stile enfatico e impudico in italia è diventato capo del governo ed è difficile trovare un più completo esempio italiano ammiratore della forza venale corruttibile e corrotto cattolico senza credere in dio presuntuoso vanitoso fintamente buonario buon padre di famiglia ma con numerose amanti si serve di coloro che disprezza si circonda di disonesti di bugiardi di netti di profittatori mimoabile e tale da fare effetto su un pubblico volgare ma come ogni mimo senza un proprio carattere si immagina sempre di essere il personaggio che vuole rappresentare essa morante ha scritto solo quattro romanzi ma la sua produzione letteraria tra racconti poesie adattamenti cinematografici e saggi è davvero rompissima la sua spinta interna veniva sicuramente da una particolare attrazione per il primitivo e il barbarico termine con cui indicava la vitalità la sacralità dell'esistenza e rifiuto delle leggi storico e borghesi per il mondo degli emarginati in opposizione al mondo borghese l'innocenza degli umili opponendoli così alla forza del mondo moderno che incombe voleva raccontare gli infelici molti contro i felici pochi questi ultimi sono definiti come categoria privilegiata di portatori di bellezza salvezza e scandalo mentre la realtà a volte ineludibile è popolata soprattutto da chi non è attorniato di bellezza perenne infatti quegli infelici molti ha avuto la capacità di guardare dritto negli occhi la miseria umana e raccontarla con una dignità immensa appassionando i suoi lettori che potevano leggere storie familiari che li facevano sentire simili e compresi la scrittura era per il samoranto il gioco evocativo che trae spunto dai repertori più vari partendo dalla propria vicenda personale per poi osservare attentamente ciò che aveva attorno in quanto ogni personaggio e vicenda ogni carattere atmosfera si rivela evocazione rielaborazione e trasformazione del suo rapporto con la madre mediato da un terribile compromesso con il marito mettendo i figli in una posizione insostenibile essa decide di andare via di casa oltre che per dedicarsi totalmente alla scrittura anche per il disgusto provato dalla situazione familiare e che spiega come questa sia stata una presenza così pesante conflittuale nonostante il sostegno e l'intuizione del suo genio proprio da parte della madre stessa allo stesso tempo il rapporto con il padre e il vero padre sono temi ricorrenti sfuggenti ma sempre presenti nelle sue storie un'elaborazione vera e propria nelle pagine di el samorante si respira qualcosa di antico di mitico profondamente ancorata al motivo stesso per cui storie ordinarie assumono un valore simbolico molto più alto e molto più universale come se ci fosse una luce che ci tocca a tutti la sacralità che assumono gli oggetti nelle sue storie è un rito devoto che richiama ricordi e la storia stessa che identifica nella loro carica emotiva e significativa un'intera esistenza aggrappata anche al più piccolo monile niente oggi la puntata va così io sono arrivata in fondo apparentemente senza piangere e niente leggete il samorante penso che la sua scrittura sia uno dei picchi più alti di tutta la produzione letteraria italiana e leggete il samorante fatelo anche per me un pochino e soprattutto se amate molto scrittrici come Elena Ferrante perché capirete molte cose e niente io spero che questa puntata del feminist friday vi sia piaciuta che vi sia interessato che questa rubrica che è antologica possa essere risultata anche in questa puntata interessante che seguirete prossimamente e ovviamente il mio invito è sempre quello di innanzitutto cercare qualcosina di el samorante che non fa mai male e poi di partecipare attivamente al feminist friday non solo qua su youtube guardando i miei video ma anche su instagram perché su instagram abbiamo una challenge per tutto il mese di marzo ovvero condividere ogni settimana un tema particolare dedicato al femminismo mi farebbe molto piacere vedervi partecipare giù ovviamente trovate tutti i link di riferimento niente io spero che anche questa puntata vi sia piaciuta ci sentiamo giù nei commenti e direi che per questa rubrica ci vediamo a venerdì prossimo per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao